Trasformare Viale della Repubblica in Viale dell'Artigianato. Per iniziare la titolare di un'attività della zona ha proposto di organizzare un mercatino di Natale accanto alla pista ciclabile. Lei cosa ne pensa? Le piace come idea? Secondo me sì, una buona idea. Come mai? Perché vediamo che qua non c'è niente per passare tempo, fare una passeggiata, almeno se c'è qualche mercatino sì, si può fare una passeggiata e vedere delle articole eccetera. Qualche mercatino in effetti le organizzano in Via Emilia, anche in Piazza Duomo? Qualche manifestazione c'è? Tu non le visiti? Sì, le visito perché non è da tanto che sto a Voghera, quindi da poco e le ho visitate quanto ho visto che hanno messo mercatini eccetera, sono venuta a visitarli e mi piacerebbe fare mercatine. Tu in che zona vivi qua a Voghera? Qua vicino a Piazza Duomo. Quindi in centro, pensi che il centro sia valorizzato? Sì. E' un posto ampio, ci si sta in tanti, però il parcheggio c'è, c'è il parcheggio. Lei sottolinea il problema parcheggio? Sottolineo perché se poi arrivi e non c'è il posto per la macchina, qui è un po' più accogliente, la piazza è grossa. Chi ha avuto l'idea, l'ha pensata per valorizzare le periferie, perché sostiene che le periferie non siano sufficientemente valorizzate, cosa ne pensa? Ma chi ha la macchina penso che si può spostare, è tanto come venire qui, come andare là, perché se per loro, vabbè, si può andare incontro alle loro esigenze, ci muoviamo noi, ma non penso che incida tanto. Lei diceva che era una metropoli. Era una metropoli, non è New York, la giri volendo anche a piedi, volendo, tempo permettendo. E' una buonissima idea. Come mai? Ma perché va sfruttato anche da parte non del centro, tutto lì. Quindi lei dice che bisognerebbe valorizzare maggiormente le periferie, questo potrebbe essere un buon modo? E' un buon modo, sì. Qualcuno sottolinea che sia una zona dove poi i visitatori avrebbero difficoltà a trovare parcheggio? No, assolutamente, i parcheggi ci sono, quindi non credo ci siano delle grosse difficoltà. Lei vive a Boghera? Vivo a Boghera. Vive in periferia o in centro? Vive in centro. Ok, si sposterebbe in periferia per andare magari ad alcune manifestazioni come questa oppure no, oppure rimane più spesso in centro? No, no, ma io non mi piace, mi piace anche la periferia.